Ciao a tutti, stiamo lavorando tanto in questo stesso giorno di ritiro, però penso che se vogliamo raggiungere dei grandi obiettivi passa tutto attraverso il lavoro e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Sì, questo è il terzo anno che sono con il mister, penso che lui ha molta fiducia in me come calciatore e anche io ho molta stima di lui come allenatore e quindi so cosa vuole e penso che se gli altri capiranno quello che chiede ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Sì, si è formato già un bel gruppo, ci sono tanti over di esperienza che penso che ci daranno una grande mano nei momenti difficili che trascineranno i ragazzi più giovani e sappiamo già che ci sono i momenti in cui si ride ma appena ci sono anche i momenti in cui bisogna lavorare e pedalare.